un giorno da star è una giornata dedicata a te stessa noi ci occupiamo del tuo aspetto esteriore attraverso i capelli il make up un outfit uno shooting professionale ma quello che ci interessa di più è la bellezza interiore iscriviti al canale Grazie a tutti Grazie a tutti Goditi la vita e vivila ogni momento Perché vi voglio bene, mi è stata dare una gran gioia Veramente bella, forte, mai provata una cosa simile all'età mia È stata una giornata meravigliosa e oltre ad aver portato queste donne che hanno partecipato a essere meravigliosamente belle È uscito anche tutto quello che hanno dentro Sono stata benissimo e vi devo ringraziar tutti perché finalmente mi sono vista bella Mi sento bella, quello sì Magari tanti te lo dicono e inizi a crederci perché non mi sono mai vista bella E per adesso bene, la sensazione di benessere che a me serviva È entusiasta per il bel ambiente che mi ha accolto È molto orgogliosa di me stessa perché ho riscoperto una parte di me Per me Curvy Pride è una rivincita È la rivincita sulle tante lacrime, sulle tante esperienze negative E vedermi allo specchio e dire oh, bella